ho avuto il primo incontro con creature extraterrestre non sono di questo mondo vengono da altre galassie alcuni appartengono al nostro sistema solare provengono da venere mart e saturno altri provengono da altri sistemi solari dall'alfa centauri un'astronave che vive attorno al sistema solare diciamolo papà e dobbiamo riscoltare così perché io li amo come un padre ma un padre responsabile però e date a quante potete il vostro respiro d'amore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti